Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su All You Can Italy e Audio Storie in Italiano. In questa rubrica ci proponiamo di aiutarvi a migliorare la vostra comprensione e le vostre capacità di ascolto nella lingua italiana. Oggi ho pensato di leggervi un brano di un autore molto noto in Italia, soprattutto nella letteratura per ragazzi. Roberto Piumini, tratto dalla raccolta Quando avevo la tua età del 1999, leggeremo il breve brano Il processo e il naso di Roberto Piumini. Il processo e il naso. Avevo nove o dieci anni. Ero un bambino. Il paese in cui abitavo era Edolo, Valcabonica, Lombardia, Italia. In mezzo a verdi alte montagne. È il paese dove sono nato. A Edolo, ancora oggi, arriva una linea ferroviaria secondaria. Di quelle che hanno i treni corti e colorati diversamente dai treni normali. C'erano locomotive a vapore, nere, bellissime. Come quelle che oggi si vedono nei musei ferroviari o nei libri degli antichi mezzi di trasporto. La linea ferroviaria che arriva a Edolo finisce lì. Non va oltre. I binari, dopo cento o duecento metri dalla stazione, finiscono contro una specie di trabiccolo metallico. Fine della ferrovia. Fine dei viaggi. Più avanti, oltre un ponte di pietra, cominciavano i prati. C'era uno spiazzo. Sembrava immenso. Tre o quattro binari che finivano. E poi dell'erba, un capannone e dei vagoni vecchi. Tutti di legno, abbandonati. Era un posto bellissimo per giocare. Ci giocavamo nel pomeriggio. Fino a quasi buio, con le bande. Le bande eravamo noi, divisi in due gruppi nemici. Non ricordo come si chiamavano le bande, ma certo i nomi dovevano essere quelli di qualche tribù o di qualche gruppo armato, preso dai film che vedevamo la domenica pomeriggio all'oratorio, seduti sulla prima e seconda fila, proprio sotto lo schermo. Nessuno aveva ancora la televisione in casa. La televisione era solo nei bar. Noi vedevamo i film al cinema e, tornando a casa, nei giardinetti squadrati attorno al municipio o attorno alla fontana con l'aquila che attacca il cerbo nella piazza grande. Giocavamo a quello che avevamo veduto. Io ero il capo di una banda. Non so perché fossi io il capo. Non credo di essere stato più forte, più veloce o più coraggioso degli altri. Però a scuola scrivevo dei bei pensieri. Non immaginavo ancora che da grande avrei fatto lo scrittore. L'ho scoperto solo a trent'anni che potevo fare lo scrittore. Però scrivevo bei pensieri. Insieme ai pensieri avevo le parole e le parole servono per fare il capo. Uno senza parole? Che capo è? Forse è per questo che ero il capo della banda. Le bande combattevano una contro l'altra. Non mi ricordo se ci fossero dei motivi, ma forse non ce n'erano. Le bande si combattevano perché erano nemiche. Ed erano nemiche perché si combattevano. Ci si cercava, ci si catturava. Non ricordo cosa facessero quelli della banda nemica quando catturavano uno di noi. Però ricordo quello che facevamo noi ai prigionieri. Gli facevamo un processo nella nostra tana. La tana era il covo della banda. Ma noi lo chiamavamo tana, come quella degli animali. La tana della mia banda era un vagone abbandonato, di legno vecchio e malandato. Era un vagone per il trasporto del bestiame. Ma nessuno ci trasportava più niente. Stava da anni alla fine del binario. Dimenticato dal mondo sotto la pioggia e la neve. Allora nevicava molto in inverno o sotto il sole. L'ingresso era aperto perché il portellone era bloccato. Dentro c'era un mezzo buio, odore di legno e forse un antico odore di bestie. C'era, a una certa altezza, su uno dei lati del vagone una finestra rettangolare, molto più larga che alta, chiusa da uno sportello di legno che si apriva verso l'interno, facendo perno sul lato inferiore. Era sempre chiuso. Probabilmente l'aprivano durante il trasporto dei cavalli o delle mucche per farli respirare un po'. Io non avevo mai notato quello sportello né come si apriva perché era sempre stato chiuso e perché io andavo in quel vagone a giocare, non a guardare gli sportelli. Quando catturavamo un prigioniero lo portavamo nella tana e gli facevamo il processo. Non sono sicuro che fosse stato sempre così. Forse prima lo uccidevamo subito o magari gli facevamo le torture come facevano nei film di indiani o dell'Africa o dei pirati, ma a un certo punto cominciamo a fare il processo al prigioniero. Forse dopo aver visto un film dove processavano qualcuno. Il nostro processo finiva sempre con una condanna o con la tortura, perché adesso la cosa era più regolare. Essendo il capo della banda io ero anche il capo del processo. Ero io che interrogavo il prigioniero. Non ricordo che cosa gli chiedevo, ma dovevano essere cose che lui non poteva rivelare, perché rispondeva sempre digregnando i denti. Non lo saprete mai, cani rognosi! Oppure chiedilo a tua nonna, gaglioffo! O ammazzatemi pure, vigliacchi, io non parlerò! Così lo ammazzavamo. Più che un processo a pensarci bene, quello era un interrogatorio a fine di ammazzamento. Non so, queste cose giuridiche sono molto complicate. Un giorno, dunque, catturammo uno della banda nemica e lo portammo nel vagone per fargli il processo. Non so se facessimo i processi sempre allo stesso modo o se quella fu la prima volta che lo facemmo così. Io mi misi al centro della parete maggiore del vagone, a braccia incrociate come un capo indiano o un califfo o un generale inglese. Il prigioniero era davanti a me, non ricordo se seduto o in ginocchio, con le mani legate dietro la schiena. Dietro a lui e intorno c'erano gli altri della mia banda. Lo guardai con disprezzo, anche se credo che questo per un giudice non sia regolare, e dissi si inizi il processo. Ricordo con precisione le parole, si inizi il processo. Poi, per dare più forza al mio ordine, feci una cosa. Non so se la feci per la prima volta o se l'avevo fatta altre volte. Se l'avevo fatta le altre volte non avevo avuto conseguenze. Quella volta le ebbe. Ma cosa feci? dopo aver detto, si inizi il processo, diedi un gran colpo all'indietro, con il tallone, alla parete del vagone. Ah, senti una potta tremenda sul naso. Credo di aver visto le stelle. Qualcosa mi stava davanti? Pesante, scuro e duro. Ero intontito, ma sveglio. Lo sportello del carro bestiame al calcio si era aperto all'interno, ribaltandosi sulla mia faccia. Sul naso, precisamente. Data la botta, stava davanti a me come una pesante visiera. Non ricordo con precisione, ma credo di aver sollevato le mani e di aver spostato lo sportello. Ero molto intontito. A quel punto tutti scoppiarono a ridere. Questo lo ricordo bene. Il prigioniero e quelli della mia banda ridevano forte, come quando al cinema si vede una scena da ridere. Io mi tastai il naso. Non era rotto. Sembrava. Ricordo che gridai, non ridere! Invece continuavano a ridere. Io ero spaventato e arrabbiato per quelle risate. Vi ordino di non ridere! Ricordo che tornai a casa da solo. Non ricordo se gli altri ridevano ancora. Ero ancora intontito, ma non dissi niente a casa, perché avevo paura che mi sgridassero per qualche ragione. Il naso non mi faceva molto male e aveva solo un segno rosso. Dissi che mi aveva graffiato qualcosa giocando. In parte era vero. Nei giorni seguenti continuavo a toccarmi il naso, per sentire se era rotto. Ma non lo era. Anzi, sentì che pian piano la parte dove avevo preso il colpo si ingrossava. L'osso crebbe un poco lì sotto e ancora oggi, guardandolo bene, si può vedere l'ingrossamento. Però non mi accorsi che il naso si era spostato molto. Me ne accorsi qualche tempo dopo, parecchi anni. Uno che mi guardava disse, lo sai che hai il naso un po' da una parte? Io andai davanti a uno specchio ed era vero. Si vede anche quando metto gli occhiali. Stanno appoggiati in modo strano, non come sopra un naso esattamente centrale. Ecco come si è spostato il mio naso, caro e curioso lettore. Fu colpito dallo sportello di un tribunale ferroviario e bestiale, all'inizio di un processo a scopo di ammazzamento. E questo era il brano di Roberto Piumini, tratto da Quando avevo la tua età, una raccolta di racconti, brano dal titolo Il processo e il naso. Spero che questo brano vi sia piaciuto e vi lascio in commento tutti i riferimenti se avete voglia di leggere l'intero libro e di conoscere meglio questo stupendo autore italiano, Roberto Piumini. Come al solito vi ringrazio di seguirci sempre più numerosi e vi do appuntamento alla prossima storia, o meglio alla prossima audio storia in italiano del canale All You Can Italy. Ciao e alla prossima! Ciao!